Il nostro lavoro continua, continua ma non da candidato. Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha confermato il rumor, sannunciando la sua rinuncia alla candidatura mai ufficializzata alla segreteria del Partito Democratico e non è né un passo indietro né di lato, ha dichiarato Ricci, ma un passo avanti di chi pensa che in questo momento servono dirigenti politici seri, responsabili e con una linea politica chiara. Ribadendo il suo appoggio al candidato Stefano Bonaccini, il primo cittadino aggiunto abbiamo bisogno di unità e di una guida che abbia solidità, forza, esperienza e al tempo stesso capacità di innovazione, anche grazie al contributo che stiamo provando a dare. Io credo molto nella gavetta e nel riscatto sociale. Per andare alle primarie decidono i pochi iscritti che sono rimasti e di conseguenza ha un potere enorme il partito esistente, non il partito del futuro. Il partito esistente ha già scelto da tempo che i due candidati alle primarie siano quelli. Quindi siamo arrivati terzi, per noi è già un grandissimo risultato. Solo essere citato tra i papabili dopo le elezioni mi ha fatto tremare le vene, i polsi e mi ha dato un grande orgoglio per chi come me è cresciuto a pane politica. Appunto è già un grandissimo risultato, ma non è che ci fermiamo qua. Noi andiamo avanti perché per noi non era mai stata prioritaria la scelta personale del segretario. I segretari ne abbiamo avuti già troppi, ne abbiamo cambiati troppi. Il punto è avere una linea politica e io cercherò, se Stefano in qualche modo garantirà le cose che ci siamo detti in questi giorni, cercherò di dare una mano al nuovo segretario come ho sempre fatto, ma con una linea politica chiara in testa, cercando di aiutarlo sul fronte sinistro perché altrimenti credo che non solo lui rischia di essere meno competitivo alle primarie, ma noi rischiamo come PD di non essere, di tornare ad essere nettamente il primo partito nel fronte democratico per guidare il fronte democratico all'alternativa a queste destre. Non voglio incarichi ma ho chiesto a Bonaccini agibilità politica, aggiunto Ricci, e al tempo stesso di provare a mantenere un dialogo con il Movimento 5 Stelle. Molto è importante innanzitutto che si faccia opposizione, perché le alleanze future si vedranno se si faranno le opposizioni insieme. Sono tre opposizioni, chi non fa opposizione favorisce la destra e chi non si presenta insieme nelle tornate amministrative e regionali favorisce i candidati di destra. Ovviamente noi vogliamo costruire un'alleanza democratica larga ma con un partito democratico forte. L'obiettivo deve essere alle prossime europee portare il PD al 25% e costruire le alleanze poi future con coloro che faranno l'opposizione insieme a noi. Venerdì annunciato Ricci si terrà un'importante assemblea a Roma dal titolo una sinistra popolare e nazionale per l'unità del nuovo PD. Da domani intanto costruiremo un grande evento che si terrà a gennaio con mille sindaci italiani. Il primo cittadino di Pesaro ha ricordato anche le dieci idee e messa a punto per ricostruire e rinnovare il partito. Abbiamo preso sul serio la costituente ma la costituente così non funziona. Io propongo di interromperla e riprenderla subito dopo. Anticipiamo le primarie entro la fine di gennaio. Aspetterà il nuovo segretario fare una costituente vera per il tutto il 2023 è ridefinire l'identità al programma del nuovo partito che non può prescindere ovviamente dalle idee che avrà il nuovo segretario. Abbiamo messo a disposizione questi punti di quello che ritengo più solido un amministratore come me Stefano Banaccini con il quale abbiamo dialogato ha voluto discutere a lungo con me della linea politica ha assicurato che alcuni punti che abbiamo definito diventeranno punti suoi. Abbiamo bisogno di avere un partito più a sinistra se vogliamo recuperare i ceti sociali più deboli. dobbiamo essere il partito che si batte contro le disuguaglianze un partito che si batte per le opportunità per chi non ne ha e quindi insomma mi ha un contributo di linea politica molto forte e confido che Stefano faccia quello che ha detto cioè che mandi avanti una nuova classe dirigente fatta di giovani amministratori, di sindaci e perché i sindaci in questi anni hanno rappresentato quella sinistra di prossimità che ha vinto e convinto nonostante tutto. Abbiamo vinto in tantissime città come Pesaro quindi credo che siamo un'energia locale fondamentale per la rinascita e anche un modo per davvero cambiare gruppo dirigente e aprire una fase nuova.